Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel terzo video del mio canale di disegni DP Art Oggi disegnerò uno dei cestisti più amati da sempre Sto parlando di Kobe Bryant che il 26 gennaio ci ha lasciato Allora ragazzi godetevi il video ma mi raccomando iscrivetevi, lasciate like e attivate la campanellina per essere sempre aggiornati sui miei nuovi video Godetevi il video Grazie a tutti 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 Grazie a tutti